E per ciò che riguarda la nuova legge sull'immigrazione in Alto Adige, la giunta provinciale avrebbe trovato un accordo. Il testo definitivo verrà approvato lunedì 17 di gennaio. Non vogliamo che si creino società parallele. Devono esserci diritti e doveri, ma il nostro obiettivo è l'inclusione. Così il governatore Durnwalder nel corso della tradizionale conferenza stampa del lunedì a Palazzo Widman ha voluto spiegare come oggi in Alto Adige si intenda trattare la questione immigrati. La legge è in dirittura d'arrivo e dovrebbe essere approvata entro la prossima settimana, un provvedimento che prevede la creazione di tre commissioni. Chi lavora qui deve lavorare per cinque anni per avere tutti questi aiuti sociali previsti dalla provincia, che sono molto più alti di quelli dello Stato. Chi vuole avere un aiuto del canone d'affitto deve dimostrare di aver lavorato per tre anni e avere la residenza almeno per cinque anni nella nostra provincia. Chi vuole avere una casa IPES altrettanto, chi vuole frequentare una scuola può iscriversi alla scuola di lingua italiana, tedesca eccetera, però deve anche essere disposto a frequentare corsi linguistici per poter poi seguire i programmi di questa scuola. Poi organizziamo anche corsi per tutti i componenti familiari. Chi lavora ha anche il diritto di essere trattato come donna e uomo con una certa dignità e perciò diciamo che dobbiamo fare una legge. Una legge che garantisca che coloro che lavorano vengono trattati, cioè tutti in un modo adeguato, invece coloro che non trovano un posto di lavoro, che vengono qui solo perché diamo delle garanzie di interventi sociali più alti in confronto di altre zone d'Italia, che non vengono qui solo per avere questi aiuti. Una risorsa secondo alcuni, un problema secondo altri, sta di fatto che sono 40.000 gli stranieri residenti in provincia di Bolzano, 27.000 dei quali provengono da paesi che non fanno parte dell'Unione Europea. E la garanzia di un equilibrio tra domande e offerta di lavoro sembrerebbe a riguardo una delle priorità, assieme alla realizzazione di progetti specifici che consentano di gestire al meglio una questione non facile. Gli stranieri devono sapere che la provincia di Bolzano è un territorio con caratteristiche particolari e per inserirsi al meglio nella società è bene conoscerle e rispettarle. Dall'altro lato, però, gli altoatesini dovranno imparare a conoscere meglio la situazione di chi arriva qui per lavorare, perché è proprio la non-conoscenza che rischia di far nascere diffidenze e paure.